Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia carriera finalmente ho trovato un po' di tempo per registrare un nuovo episodio e quest'oggi ci sarà una piccola novità e penso me ne siate già accorti e voglio spiegarvi un attimo di cosa si tratta. Siccome per problemi di connessione non riuscirò a portarvi delle live e quindi non avrete modo di interagire con me mentre sto giocando quindi farmi le domande, sapere qualcosa eccetera ho ben pensato di ricorrere a questo metodo diciamo che vi chiedere a voi tramite i social in questo caso l'ho fatto appunto su Instagram qualche domanda, qualche curiosità e poi io appunto la risposta ve la do nell'episodio della carriera quindi ditemi se questo sistema vi piace, ditemi se approvate, purtroppo è l'unico che riesco a fare perché voi possiate un attimo interagire con me e basta quindi questo sarà il modo su Operandi, io quando sarò in procinto di registrare il prossimo episodio vi avviserò nei social, vi avviserò su Instagram e la prossima volta lo farò anche sulla community di YouTube perché so che magari molti Instagram non ce l'hanno e vi dirò ragazzi sto per registrare e se avete qualche domanda o volete chiedermi qualcosa scrivete la domanda e io poi quando registrerò l'episodio vi risponderò come ben avete visto la cadenza degli episodi ragazzi sono... la cadenza è mensile o bimestrale quindi sì, è un format di video come ben sapete che registro quando ho tempo e niente questo è quanto quindi datemi un feedback, fatemi sapere se quest'idea vi piace e basta quindi poi io adesso ovviamente mi sono già preparato le domande tutte quante credo di riuscire a rispondere a tutte alcune hanno bisogno di una spiegazione un po' più esaustiva, un po' più lunga altre sono più veloci a rispondere comunque cercherò di rispondere a tutti quanti ho già i miei bei fogli qui perché ovviamente non le ricordo a tutta la memoria e basta, quindi andrò con ordine e vi risponderò ultima cosa, poi iniziamo con la carriera vi chiedo preventivamente di riferire subito se volete essere citati nella risposta quindi io dirò il nome, ha chiesto, cioè il nome e la domanda e poi io risponderò se non vi va scrivetelo e quindi fatemi sapere in ogni caso se volete essere, sì, dica il vostro nome e basta che così risparmi o tempo a chiedere se posso dire il tuo nome, eccetera, eccetera quindi dite la domanda e dite alla fine sì, voglio essere citato o no, non voglio essere citato questo è su Instagram e questo anche sulla community di YouTube soprattutto perché lì interagire è un po' più difficile cioè non è un'impostazione messaggistica e quindi è solo un commento, altrimenti devo sempre venire là a vedere la risposta, eccetera quindi per favore ricordatevi questa cosa qui quindi partiamo con il nostro episodio della carriera ragazzi, oggi facciamo un bel po' di lavori ma come sempre vi aggiorno su quanto ho fatto ho portato avanti un po' i lavori ho finito il trinciato sono attuati un po' col pellet ho iniziato con i liquami quindi ho fatto un po' di lavoretti non tantissimi ma porca c'è la miseria che sto prendendo tutti i cartelli qua e quindi ho fatto un po' di cose vi aggiorno il pellet ragazzi nel campo 11 questo qui che avevamo iniziato la scorsa volta mi pare sì mi ha fruttato 38.269 di pellet nel campo nel mezzo 13 qui ho raccolto e mi ha fruttato 41.000 e mi manca il 18 questo qui da fare tutto quanto quindi non so ancora darvi la resa ho finito il trinciato appunto sul campo 10 e il campo 12 ho mandato avanti anche un po' il tempo ragazzi e quindi quello che è rimasto del mais del 12 è maturato quindi ora è in fase secca e quindi andremo a trebbiarlo e poi ho mandato avanti il tempo anche per la questione dei poplars dei nostri pioppi che sono pronti da trinciare ho restituito la orbis prima di far passare la mezzanotte perché sapete che la mezzanotte c'è lo scatto del noleggio in più e purtroppo mi hanno scattato 5.350 euro in più per il noleggio della trincia però era un attimo una questione inevitabile detto questo detto questo vi porto un attimo dietro qua qui vi faccio vedere le trincee e tutto qui è il pellet che ho immagazzinato non ne ho usutilizzato niente ancora tutto qui quindi non ho fatto la cila centrale qui termoelettrica ancora ferma diciamo e basta queste sono le mie trincee ecco qua allora in totale in tutte le trincee ragazzi il quantitativo è di 1.280.000 litri quindi sono 470 mi pare qui 4 si 4.74 in questa e 4.30 in questa e 3.79 in questa qui e basta adesso valuterò se eventualmente prossimamente adesso ormai queste trincee le ho fatte così e vedrò se farne una unica un po' più grande senza trovarmi i muri in mezzo alle scatole così e basta vedrò già un attimo di fare una trincea unica insomma comunque ok questo è quanto ora copriamo il silos insieme ecco qua adesso ragazzi scusate ma ogni volta mi mi incastro ogni volta che chiudo il telo ecco qua chiudiamo questo e per finire abbiamo non so se capita anche a voi che quando salite sopra e chiudete vi incastra comunque ok ecco qua vi ho coperto tutto quanto quindi lasciamo la fermentazione che vada che faccia il suo corso e basta qua il biocasso ragazzi è ancora fermo ci sono ancora le bieture da raccogliere nel campo cos'è quello mi ricordo il numero 17 però non faremo questo episodio e basta quindi adesso aspettiamo che maturi tutto e ok allora quello che mi è avanzato ragazzi alla fine c'è tutto questo 1.280.000 mi è voluto tutto il 10 qua e quello che vedete nel 12 ecco qui praticamente qua un poco più di metà di metà campo ecco e basta qui ho appunto l'11 e il 13 che sono rimasti incolti qui ho la paglia da prendere su che vi ho detto prima e ok adesso questi qui vedrò un attimo cosa fare se passare con la Olmer di gestato tutto quanto oppure penso di fare anche un giro con l'etame perché prima stavo dando un'occhiata ai maiali e ho visto che comunque di l'etame abbiamo 80.000 e l'Iquami 150.000 quindi possiamo sfruttare anche un po' di roba loro e basta quindi non lo farò in questo episodio qui e ok abbiamo anche a proposito di maiali la stalla piena abbiamo 50 e 50 siamo full qua i cavalli sono un poco più di metà quindi li lasciamo lì e ok bene 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 quindi in questo episodio venderemo i maiali finiremo il lavoro con la botte che ho iniziato a L'Iquamare il campo 10 eccolo qua il 10 si e quindi andremo a finire quello faremo partire ragazzi il mulino che devo farlo partire per fare il pastone e anche svuotare il silo perché altrimenti non so dove stoccare la granella e quindi si faccio un po' di riempimento qua nel mulino faccio un po' di pastone e basta qui c'è ancora il chirovest armato da guerra che lo utilizzerò nella trincena del pastone e basta quindi 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 io direi di iniziare ragazzi prendo vedete tutto non c'è altro a dirvi beh sì vabbè i poplars se sono maturi eccoli qua tutti belli folti penso in linea di massima credo di dover raddoppiare se non di più il quantitativo che facevo prima che era più o meno sui 120 130 mila adesso andremo over 250 260 almeno credo e basta ho provato anche sotto consiglio di vostro che alcuni di voi mi hanno consigliato la lama quella doppia che c'è sul modab per i pioppi l'ho provata è tutto la acquisterò perché comunque è una cosa che mi serve ci serve e questa è una volta per tutte l'ho provata sulla class sulla jaguar però traballa un po' collide un po' con la gomma la scatola del cardano però non posso farci niente è inutile che sto là guardare questo guardare quello prendo quella come si attacca si attacca e buonanotte ottimo quindi prendiamo il nostro caro titan 190 e andiamo con a vendere un po' di maiali innanzitutto eccoci qua bene allora sì vi ho detto tutto quanto non c'è altro da dire e allora mi metto già sotto qui ragazzi il foglio delle domande sì sappiate che comunque facendo così facendo quelle domande eccetera gli episodi presumo possano diciamo essere anche un po' più lunghi e quindi sì come ben vedete la cadenza è un po' lunga e se faccio anche un'oretta eccetera spero non vi dispiaccia e basta prendetela come una sorta di pseudo di pseudo live come ho detto all'inizio vi ripeto purtroppo per motivi di linea non riesco a farvela e quindi dovete un attimo accontentarvi quindi carichiamo confermiamo ok vediamo risponda inizio allora Federico Lauretti chiede cosa ti aspetti in attimo ragazzi che devo leggere non riesco a guidare nello stesso momento vado un po' piano così io ho davanti cosa ti aspetti dal prossimo capitolo magari non come terreno 3D ma anche vari stadi di preparazione per rendere utili frese dischiere dissodatori eccetera invece di fargli svolgere a tutti lo stesso lavoro beh Federico bella domanda ottima 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 osservazione cosa mi aspetto sinceramente parlando mi aspetto sì uno degli aspetti che aspetto scusate il gioco di parole nel prossimo farming è anche questo sì è anche questo sì quota che appunto sì non mi interessa più di tanto diciamo la questione del terreno dinamico perché vabbè se c'è bene se non c'è non è che importa però sì la questione qui dell'attrezzatura secondo me dovrebbe essere ben studiata e ben sviluppata perché appunto in questo caso in queste condizioni in cui siamo adesso ragazzi utilizzare una dischiera utilizzare una fresa utilizzare sul terreno non c'è nessuna non fa differenza diciamo quindi sì vedere diciamo l'impatto differente che ha un certo attrezzo nel terreno rispetto ad un altro quella sarebbe una bella cosa anche perché comunque si imparerebbe di più quando è il momento migliore qual è la situazione migliore per utilizzare un dissolutore per utilizzare un aratro per utilizzare una dischiera per utilizzare un ripuntatore per utilizzare un preparatore per utilizzare un coltivatore per insomma vari strumenti nelle varie situazioni poi sarebbe bello anche magari che ne so so che sono ipotesi che comunque credo siano molto difficili da attuare e anche la tenacia del terreno la durezza terreni più sciolti più o meno compatti secondo me un attimo che ragazzi faccio una cosa alla volta sapete che noi maschi non siamo multitasking una cosa alla volta e niente sì anche la questione dei terreni alcuni un po' più duri un po' più sì questo per dire magari che su un terreno più sciolto un trivomere lo si tira con 100 cavalli su un terreno più tenace ci vogliono 300 cavalli per esempio o anche la metratura degli attrezzi cioè ci sono tantissimi aspetti secondo me che possono essere considerati sotto questo punto di vista comunque si quoto anche io il tuo pensiero vi dico anche che comunque le domande ragazzi io cerco di rispondere abbastanza velocemente spero di essere più esotivo possibile perché come ben sapete chiacchiero abbastanza e parlo tanto quindi io potrei anche parlare tutto l'episodio su questa domanda però però insomma devo anche un po' lasciare spazio a tutti gli altri quindi spero di di rispondere esotivamente anche se diciamo in maniera abbastanza breve e via poi tra turisti mantovani volevo chiederti se ti sei mai montato la testa sul tuo canale youtube in merito vedete ragazzi cosa significa guardare qualcos'altro e guidare quindi state attenti anche per strada ragazzi guardate la strada non guardate il telefono guardate altro perché fate malare vabbè chiusa la parentesi se ti sei mai montato la testa sul tuo canale youtube in merito a iscrizioni visualizzazioni eccetera perché hai scelto come nome del tuo canale killer clock allora no io non mi sono mai montato la testa per quanto riguarda youtube per quanto riguarda i numeri che siano iscritti che siano visualizzazioni eccetera io ragazzi penso che molta gente mi abbia potuto conoscere nel corso degli anni attraverso il video o anche chi mi conosce di persona io sono una persona molto umile sono una persona molto semplice non non sono montato almeno credo cioè agli occhi miei non lo sono non mi pare di avere comportamenti per essere definito tale e quindi no non mi sono mai montato nulla ragazzi per quanto riguarda questa questione e io sì ho sempre fatto tutto quanto come diciamo come mi sentivo di fare non ho mai non sono mai andato avanti diciamo avendo la fame di fama fame di visualizzazione fame di numeri voler arrivare qua voler fare questo no io ho sempre fatto tutte le cose tranquillamente con passione con dedizione con tranquillità ho sempre preso quello che arrivava non ho non sono mai stato pretenzioso su nulla poi sono io cioè quello che sentite quello che sentite diciamo come mi comporto quello che vi dico è l'approccio che ho io attraverso cioè verso questo lavoro chiamiamolo così perché ormai è questo per me sono così anche comunque nella vita reale sono una persona molto semplice molto tranquilla anche se molti mi dicono che sono che posso essere altezzoso ma non è assolutamente vero perché no no per chi mi conosce bene sa come sono fatto e quindi il nome Killer Croc 88 88 perché appunto è il mio anno di nascita 1988 e il mio nome l'ho scelto praticamente ragazzi che nel momento in cui ho creato il canale stavo giocando a Batman Arkham adesso l'Arkham Asylum mi sembra forse perché c'è l'Arkham City l'Arkham Knight l'Arkham Asylum sì sapete che sono un battito di Batman e fatalità quel periodo lì perché io il canale l'ho aperto dal 2012 novembre ottobre 2012 mi pare sì e stavo appunto affrontando lo scenario contro Killer Croc e diciamo ho voluto dare il nome al canale in base a quel personaggio di Batman che è l'unico antagonista ragazzi di Batman con forme e sembianze non umane diciamo così una curiosità tutti gli altri antagonisti di Batman sono diciamo proprio persone non hanno stranezze a parte due facce che vabbè ha la faccia bruciata eccetera però per Killer Croc è l'unico personaggio diciamo un po' chiamiamolo mostruoso e basta per questo diciamo il nome deriva da questo qui ok perché passiamo beh passiamo madonna ragazzi non riesco a guardare due robe Marco Trevisan un attimo visto c'è lo stop me ne approfitto anche se non c'è nessuno Marco Trevisan mi chiede perché ha deciso di aprire questo canale rispondo anche a TFT Club che mi ha fatto più o meno la stessa domanda mi ha chiesto con me che ha iniziato su YouTube e in generale in farming allora io diciamo che mi sono avvicinato prima a farming e poi a YouTube ho iniziato così scaricando per caso per puro caso questo simulatore non questo ma insomma 2013 e niente ho iniziato a giocare tutto quanto io ovviamente la passione per l'agricoltura ragazzi per i mezzi agricoli per i trattori tutti l'ho sempre avuta l'ho sempre avuta quindi non è che me l'ha ordinato nessuno quindi è sempre stata una cosa che è cresciuta vive è vissuta e vive dentro di me un attimo che devo guardare quanti maiali ho ancora 38 vorrei fare un altro giro ma ragazzi lasciamo qua il Titan che poi nel rangio vado avanti a finire cambiamo lavoro ragazzi se no qua vado avanti mezz'ora e un attimo che mi avvio a fare l'altro lavoro portate pazienza ma è un po' difficile dirvi rispondere alle cose e pensare a cosa fare un attimo faccio partire il mulino faccio partire il mulino così poi intanto va avanti fa i suoi lavori ok allora riempiamo dal nostro silo po' di granella un attimo che si dicevo della questione del canale si è la passione che ho sempre avuto la coltivo la portavo avanti eccetera però appunto avevo scoperto Farmi Simulito 2013 e così all'epoca ovviamente spulciavo un po' youtube guardavo un po' di video all'epoca c'era agromoderni fmarco e io ho iniziato un po' a guardare i loro video anche perché magari c'erano alcuni tecnicismi che non capivo del gioco ovviamente ero un neofita e mi sono un attimo un po' avvicinato al mondo youtube guardando anche i video degli altri detto questo detto questo così un giorno ho visto un attimo un po' tutti i video cosa faceva la gente eccetera e avendo anche tra virgolette tempo a disposizione perché ero disoccupato ho detto boh vabbè provo anch'io così a buttare su qualche video su youtube mentre faccio i miei gameplay infatti se andate a vedere i video tra virgolette stupidi che ho fatto che facevo agli inizi vedete insomma che sono proprio semplici semplici voglio dire mi mettevo là magari un minuto due minuti facevo il lavoro e bom basta e quindi ho iniziato così ho caricato qualche video avanti indietro con un po' di mod eccetera e basta tutto è iniziato così e ovviamente poi è andato avanti la questione è andata avanti ho visto che comunque un po' di numeri c'erano gente commenti eccetera arrivavano e basta dopo di che ho accostato ho iniziato ad accostare la simulazione scusate i video reali e la simulazione e così un po' sono partito ho iniziato a fare i miei primi video col telefono ho girato un po' le campagne torno a casa mia così per conoscenza e basta tutto è un po' venuto così da sé adesso ragazzi voglio devo finire il 10 dell'iquame un attimo che carico qua quanto roba abbiamo 24% boh carichiamo digestato vedete che siamo anche quasi vuoti sulle nostre vasche di stoccaggio e boh perfetto si poi un po' le cose sono venute un po' da sé mi sono un attimo dedicato perché avevo appunto tempo perché diciamo se uno lo fa così perché non sa cosa fare per passatempo eccetera si dedica e buonanotte quello che arriva poi appunto per me è diventato un po' un impegno è diventato un lavoro e mi sono dedicato ho visto delle possibilità ho visto delle opportunità ho approfittato e sono andato avanti e adesso sono arrivato dove sono insomma però capite che è nato tutto per caso io non è che mi sono piantato un giorno su youtube e ho detto cazzo adesso mi metto qua faccio un canale faccio views faccio video io non sapevo niente di niente di niente quindi è partito proprio una cosa molto casuale io ero veramente il gnorri di turno lo gnorri di turno e basta è partito tutto così e boh adesso ovviamente ci sono tantissime altre dinamiche da dire eccetera però ovviamente vi do una risposta ti do una risposta perché in questo caso siete due vi do una risposta molto così semplice abbastanza veloce un attimo che devo rifarmi qua allora mi mancano le capezzagne devo fare altre due in teoria con due passate e finisco questa quindi vado in su di qua così poi finito chiudo la capezzagna di sopra vengo in giù chiudo qua e dovrei finire in teoria non avete capito una tega però io mi sono capito quindi assidate in teoria dovrei farcela spero 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 non lo so va bene e basta quindi un attimo si qua ragazzi dove avevo fatto il trinciato ho deciso di passare la botte e poi appunto passerò il dissodatore perché appunto dopo mai sarà bisogno di essere dissodato il terreno e ok si si da ce la faccio bene 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 spero di aver risposto abbastanza la vostra domanda passiamo alla prossima Mirko Rossi mi chiede mettere una stalla delle mucche ad esempio quella di RL Modding al momento non ho intenzione di avventurarmi su allevamenti di mucche eccetera perché già faccio fatica a star dietro a queste poche cose che ho adesso sulla carriera e per il momento non ho non ho idea cosa penso American 2.10 cosa pensi del nuovo farming arriverà a breve la mappa di Sukkaz mi piace ti piace allora farmi arrivare a breve caro mio non so assolutissimamente niente di niente pur essendo partner e tutto ragazzi vi dico la sincera verità che non ho nessuna informazione non so niente quindi portate pazienza non so non so davvero non so davvero niente 0 di 0 quindi non so darvi non so darvi praticamente nessuna risposta e basta la mappa di Sukkaz penso di aver già detto la mia sul video presentazione si ha fatto un gran lavoro un bel lavoro ovviamente la mappa sempre ragazzi è un discorso personale a me può piacere a un altro non può piacere si non mi fa impazzire non è propriamente il mio stile di mappa però essendo oggettivi è una bella mappa ma che sia una edit ha fatto davvero un gran un gran lavoro quindi 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 qua dover riuscire a chiudere tutta la capezzagna in teoria andiamo dovrei farcela beh anche se resta indietro qualcosina non importa ok non è in rente beh domanda questa è di floman 290 non è in rente della carriera ma quando uscirà la mappa di Edo farà una serie italiana allora intanto spero che esca la mappa di Edo e spero ovviamente anche di averla perché sono curioso di darci un'occhiata perché ragazzi ve lo dico non ce l'ho ancora quindi sono curioso di vederla e no 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 non sposterò la carriera non farò altre serie ragazzi perché credetemi cioè il tempo che ho per farmi simulator è già tra virgolette contato per quello che faccio quindi la carriera le presentazioni eccetera e quindi no no non avrei praticamente tempo per fare portare qualcos'altro anche perché appunto avendo avviato in questo capitolo questo format della carriera credetemi che mi porta via molto tempo molto molto tempo voi vedete un'ora di episodio ma a me servono 5 6 7 ore di gameplay scusate che non è un po' più indietro per arrivare diciamo dove dove sono scusate ma le manovre con la ralla non sono il mio forte ok quindi questo per dite che appunto non farò una serie italiana continuerò con la mia carriera con i miei soliti video e basta ma anche perché non ho proprio tanto tempo materiale per dedicare un qualcosa a qualcos'altro diciamo ecco se Ricky30 underscore 2006 chiede se userò il Ribery RS100 nella tua carriera no non lo userò perché non ne ho necessità non mi serve nella mia condizione attuale realtractorschannel mi chiede come è tenata la passione per l'agricoltura ho mezzo risposto sulla domanda all'inizio del canale eccetera io vivo in campagna sono sempre vissuto in campagna e sono cresciuto in mezzo ai trattori in mezzo ai campi e quindi la passione ragazzi l'ho sempre avuta fin da piccolo è una parte di me è una parte di adesso qua ragazzi faccio una manovra voi chiudete gli occhi e quindi è una cosa che apriteli pure che coltivo da sempre ho sempre avuto nel sangue nel cuore e tutto quindi è nata perché ci sono nato diciamo in questa realtà ecco questa è la questione Luca Canducci chiede in una mia carriera sto pensando di investire in un biogas dato che tu lo hai nella tua mi potresti dare un parere se poi riuscirei a rientrarne i costi allora la questione del biogas caro mio dipende tanto anche da che tipo di biogas scegli io non l'ho scelto diciamo non ho scelto di mettere ragazzi volete vedere che ci arrivo proprio giusto 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 lol 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 e anche avanzo 362 what the fuck vi giuro vi giuro che non ho fatto le prove prima di registrare quindi boh perfetto ottimo il 10 lico amato e bene adesso dovrò mettere sotto il kilovets col dissodatore però al momento è ancora in modalità trincea quindi lo lasciamo lì la botte la possiamo un attimo fermare che poi vedrò il 10 cosa fare sugli altri il 10 quello del mais vedrò se passare appunto la botte con il liquami con il digestato qui o andare dai maiali a prendere un po' di roba comunque farò nel prossimo episodio credo a parte che penso manderò avanti anche un po' i lavori quindi tante cose le vedrete fatte per il momento lasciamo qui la botte e agganciamo il Daemmler al 9.36 che ci serve per il pastone un attimo devo sbricciare la ralla ci serve per il pastone per svuotare il mulino per svuotare il pellet e per il cippato quindi vediamo qua andiamo a vedere un attimo il mulino ragazzi allora le statistiche ecco qua abbiamo lo scarico abbiamo 20.000 di mais 12.000 allora io potrei anche scaricare un altro po' di roba andiamo a restarci tutto no vabbè perfetto siamo qua ok stavo rispondendo la questione del biogas si dicevo Luca io il biogas l'ho messo giù per quanto riguarda si un po' la questione economica che mi da qualcosina anche se diciamo il reddito lo assorbo da altre fonti qui in farm l'ho preso più che altro per i reflui per il digestato che così risparmio in termini di costi per quanto riguarda la questione chimica quindi andare col fertilizzante chimico eccetera scusate se vedete andare in là porca c'è la miseria questo fungo e appunto per la questione di digestato è una cosa un po' funzionale per quanto riguarda questa cosa qui ok basta per quanto riguarda i costi si usando solamente le entrate derivate dal biogas rientrare del costo del biogas poi ovviamente ragazzi cioè Luca dipende che biogas usate come paga quanto paga come è strutturato come è scriptato ma questo per dire che il biogas ripagarsi a sé diciamo senza ci vuole abbastanza tempo anche perché ci sono costi di trinciatura poi io adesso sto facendo ipotesi così nel senso la trincia ha un costo se la compri ha un costo trinciare un costo tutto quindi diciamo che per ripagarsi ci vuole un po' di tempo ci vuole un po' di tempo si ripaga per carità di dio si ripaga ripaga i costi e tutto però ci vuole abbastanza tempo ecco quindi dipende cosa diciamo lo devi usare e basta ecco bene qua andiamo ad agganciare il Dembler poi Simone Dubini mi chiede qualche news sul nuovo farming ho risposto già prima non so assolutissimamente niente al momento e che ha trovato diversi problemi nella precision che ha dovuto toglierla e può capitare io ti ripeto non l'ho ti ripeto non l'ho tanto guardata e dove cacchio sto andando il Dembler ce l'ho di qua guardate ragazzi ma non è proprio facile mettere il cervello al 100% di carico ok ora dobbiamo un attimo avviare la questione di Poplars quindi io direi che possiamo andare a comprare la nostra il nostro coso per il cippato che è qua sì perfetto eccolo qui questo qui sono 24.000 euro di costo adesso noi ce lo settiamo class perché poi quando comprerò la trincia penso comprerò proprio una class quindi colore principale mettiamo class colore design questo qui non mi ricordo cosa colora sì perfetto ok ottimo ci siamo quindi l'abbiamo già allestito gommatura sì dai direi lizard anche se non mi piace però il disegno così tappato è un po' più adatto diciamo alla questione del fondo che si trova nei poplars buon perfetto acquistiamo compriamo una volta per tutte così ce l'abbiamo e via ok andiamo a prendere la nostra jaguar che è di qua perfetto buenos allora sì la questione della precision dicevo non l'ho provata sinceramente non l'ho guardata non l'ho analizzata quindi non ti so dire allora vabbè qua c'è la domanda di un attimo ragazzi mi fermo perché non riesco a leggere e guardare la strada a tft club ho già risposto Matteo Zammarchi perché ho venduto il drone il primo video che hai fatto era lo spettacolo allora Matteo il drone l'ho venduto per una questione di una strategia mia economica ti spiego so non per certo ma in teoria che quest'anno dovrebbe uscire il nuovo Mavic il 3 detto questo avevo intenzione già di cambiare il mio pro prendere un drone un po' più avanzato a livello di videocamera fotocamera come voglio chiamarlo e appunto mi sa un attimo volevo prendere il 2 pro ma mi sono fermato perché appunto c'è l'uscita di questo nuovo 3 quindi il mio ragionamento è stato questo vendo adesso il mio Mavic Pro e attualmente appunto che riesco ancora diciamo ha ancora un po' di mercato riesco ancora a piazzarlo riesco un po' ancora a guadagnarci e e basta quindi l'ho venduto per questo motivo per un motivo economico per non proprio trovarmi magari a venderlo quando è uscito vedete ragazzi che vi dicevo che sto Arcano qua traballa e poi va anche un po' in collegio con la ruota qui davanti però ragazzi non so cosa farci è così e buonanotte e appunto dicevo non voglio non non volevo trovarmi a venderlo quando era già uscito il 3 e quindi il Mavic Pro sarebbe stato vecchio di due generazioni e appunto primo avrei fatto una fatica enorme a venderlo e punto secondo anche se l'avrei venduto non avrei diciamo guadagnato chissà che e quindi è stata solo una strategia mia economica adesso quest'anno vedremo cosa uscirà se uscirà vedremo i prezzi vedrò valuterò cosa comprare vedrò se fare la spesa eccetera e basta per il momento insomma io i video li faccio lo stesso anche senza il drone come ben vedete come ben vedi è uno strumento in più che uso solamente in caso di estrema necessità quindi video su vigneti o video particolari e basta per il resto io i video li faccio terra terra nel vero senso della parola con il mio cavalletto con la videocamera io sapete che ho uno stile mio non mi piace tanto fare tra virgolette scena eccetera mi piace che voi vediate il video che voi vediate quello che vedo io quando sono in campo trasmettervi le mie emozioni attraverso il sound attraverso le ripese così semplici e basta ecco quindi diciamo non è è una cosa il drone appunto è uno strumento in più che non è diciamo necessario per quanto riguarda il mio stile stile di video ok qua siamo qua a 9.70 andiamo a prendere 9.36 perfetto un attimo che leggo la prossima domanda spero di essermi spiegato per quanto riguarda il drone Federico Castagnetti chiede novità da ago modding no 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 novità non lo so sapete sai che ago modding è solito fare così sparisce per un po' e poi salta fuori di punto in bianco e butta fuori bellissimi mod come è stato per gli SLH e quindi ecco questo è il modo superandi di ago lo conosciamo e quindi secondo me è lì diciamo nel 4x4 che sta facendo però poi salterà fuori e ci darà le sue le sue perle quando tornerà Giulia chiede Luca Lombardi Giulia tranquilli ragazzi che vi ho sempre accontentato con Giulia non vi abbiamo mai delusi Giulia è sempre qui non vi preoccupate che l'appuntamento annuale al massimo al massimo biennale arriva quindi stai tranquillo Luca che Giulia è sempre operativa non vi preoccupate anche perché la potete seguire su Instagram vedete insomma è sempre operativa ecco poi Carlo 515 chiede perché così poche modi italiane nella carriera scelta scelta o altro ps so di chiedere troppo episodi più lunghi ecco per quanto riguarda gli episodi lunghi insomma cerco di non esagerare perché come ben sapete io posso star qua anche tre ore non ho nessun problema a registrare con le tempistiche come ben vedete riesco a parlare a fare discorsi eccetera quindi non ho non ho problemi comunque dai vedrò di stare sull'oretta di episodio non mi sto neanche cronometrando stavolta non mi ricordo che ora ho iniziato a registrare e vabbè comunque ok poche modi italiane nella carriera diciamo che io sulla carriera qui prendo quello che mi va meglio mi sta meglio per quello che devo fare non sto qui a guardare se una cosa è italiana o meno e quindi vado un po' così a gusto mio a gusto mio come ben vedete vabbè come ben vedi qua l'italiano ho il durante ho il same il titan ho il baschieri ho un po' di cose però ti ripeto prendo vedo una cosa mi serve una cosa guardo la prendo ma non so lì a vedere se è italiana o meno ok perfetto la prima parte l'abbiamo finita ragazzi ci sono altre tre quattro cinque domande un attimo che ho i fogli più benedetto mi chiede hai trattori nella vita reale se sì quale che ne pensi del marchio allora sì io ho un trattore nella vita reale ho un same solar 50 doppia trazione che uso per i miei vigneti è un trattore che praticamente gli unici lavori che fa sono atomizzatore e taruk come volete chiamare insomma trincia erba un trincio anche i rimasugli della potatura e basta lavora praticamente in presa di forza non lavora con coltivatori aratri rotanti erpici niente insomma fa solo lavori di presa di forza e basta ha 30 anni quest'anno scusate 33 anni quest'anno alla mia stessa età e basta cosa ne penso del marchio beh per quanto riguarda la mia esperienza dico che per quanto mi baso diciamo sul mio utilizzo io non ho mai avuto problemi non fa tante ore ne fa pochissime non raggiunge le 100 ore all'anno quindi capirai che insomma uso veramente poco e basta per quanto riguarda cosa ne penso del marchio in generale ognuno ha i suoi gusti ognuno ha le sue cose la pensa in un modo o in un altro dipende cosa deve farci con un trattore quanto lo deve utilizzare che lavori deve fare qua dovrei aprire veramente un discorso molto lungo molto ampio ti ho dato un attimo ancora una risposta così veloce comunque per quanto mi riguarda non ho mai avuto problemi non ho mai avuto casini e quindi va più che bene per fare quello che deve fare Daniele Livieri chiede un video dove fai più lavorazioni dove usi mezzi diversi credo comunque già nei miei episodi della carriera di far già abbastanza lavori più svariati quindi più di così non so cosa fare non è che posso cambiare ogni tre minuti un lavoro è buono l'acquisto di un Valtra no perché ho già venduto quello che avevo io prima e quindi non ne vado a comprare un altro adesso ho appena comprato l'Oxerion quindi non è proprio il momento di fare nuovi acquisti per trattori anche perché non ne ho non ne ho mamma mia quel ragazzo di Geto Artac Jaguar e quindi non ne ho diciamo bisogno attualmente di nuovi mezzi Luca Soardo mi chiede lavorature in FS serve non serve a me hai fatto delle prove a proposito sì ho fatto delle prove l'ho anche detto in alcuni episodi in un episodio ho proprio fatto un ragionamento ad hoc per quanto riguarda la lavoratura dei mezzi ora non sto qui a rifarlo perché veramente viene lunga la questione non mi ricordo il numero dell'episodio in cui l'ho fatto altrimenti ti direi di andare a vederlo ma penso sia dentro i primi dieci e sì comunque la lavoratura i pesi in Farm Simulator sono effettivi cioè si sente se un attrezzo è zavorrato nell'anteriore quando si fa un lavoro perché appunto l'avantreno ha bisogno di essere schiacciato in alcuni lavori perché comunque il trattore è una leva è una bilancia e quindi quando si ha un peso che grava nel posteriore che sia a sollevatore o ad altro o a timone comunque per diciamo contrastare e bilanciare il peso c'è bisogno di un altro peso davanti come è comunque nella realtà e lo è anche qui in farming quindi sì la zavoratura ha importanza sia quella nell'anteriore sia quella nel posteriore in questo caso in posteriore intendo le ciambelle e boh magari nei mezzi più grossi nei mezzi più grandi si sente fin là però su alcuni piccoli si sente un po' di più perché appunto viene a mancare l'aderenza e ci sono tanti piccoli aspetti ma comunque sì c'è c'è serve 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 poi ovviamente dipende dal lavoro dipende da tante cose ok Andrea Modding chiede secondo te tra due o tre farming il numero di brand si sarà duplicato o almeno una volta e mezza quelli che ci sono in questo farming oddio che domanda non te lo so dire non te lo so dire sinceramente non non lo so io a dirti la verità non i brand ce ne sono già a sufficienza e già abbastanza ce ne sono veramente tantissimi di mod ce ne sono una marea quindi in quanto riguarda questa cosa qui non lo so io non ho particolari diciamo esigenze per quanto riguarda i brand e quindi per me bastano quello che ci sono quelli che portano i mod perché come ben avete visto come ben avete visto insomma in questo capitolo di farming sono veramente spuntati tantissimi e continuano a spuntarmi quindi per me insomma di default sono sufficienti poi per il resto ci sono le mod e quindi e quindi boh c'è veramente tantissima 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 roba e basta qui abbiamo fatto il pieno del Daimler ragazzi 41.000 abbiamo fatto questa porzione qui direi che la resa è buona è buona vedremo 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 un attimo che mi scrivo già quanta roba ho fatto nel foglio qua allora cippato Daimler un carico 41.000 e poi vedrò quanti ne farò ok boh scusate ma ragazzi io ho bisogno della mia carta e penna come buon vecchio per scriversi le cose porca miseria eh sì il quantitativo di liquame ragazzi utilizzato per il 10 non ve l'ho detto perché ve l'ho già detto nello scorso episodio mi pare comunque occhio e croce più o meno sui 70.000 mi pare 70 75 mi sembra ultime due domande ragazzi Francesco Barbato mi chiede come mai sto facendo meno video del solito qual è il tuo lavoro principale allora beh per quanto riguarda il numero di video Francesco dipende tanto dal periodo che sia beh ci sono periodi dove ho più da fare nei video reali nell'agricoltura periodi dove sono dove i lavori in campagna sono diciamo fermi per quanto riguarda la stagione insomma ecco e poi dipende anche tranquillamente dal tempo che ho e io appunto questo sì è uno dei miei lavori questo di youtube e poi ho anche i vigneti ho anche altre cose nella mia vita oltre a queste queste qui e quindi faccio quello che posso faccio meglio che posso cerco di essere sempre presente cerco di portarvi più cose possibili di essere sempre costante come ho sempre fatto penso nel corso degli anni e basta ma comunque ti ripeto ci sono periodi e periodi periodi in cui appunto c'è un po' più da fare periodi in cui c'è un po' meno roba adesso qua ragazzi faccio un po' l'illegale e basta poi magari tante cose io appunto devo anche mantenerlo il lavoro oltre che a farlo questo per dirti che magari tante cose io le diluisco nel tempo nel senso boh quest'anno io faccio il planning di riprese per quest'anno so cosa devo filmare eccetera e basta però avrei anche altre cose ma le tengo diciamo per l'anno successivo quindi devo tenermi diciamo il lavoro nel corso degli anni ecco non posso fare anche tutto in un colpo perché poi rimarrei cioè non rimarrei senza però voglio dire farei un anno full è un anno vuoto o con poca roba e per quanto riguarda farming farming anche quello va a periodi ci sono cose periodi in cui c'è sono tante mod periodi in cui però ripeto sì ho calato ho rateo rispetto agli anni scorsi anche perché vi ripeto ho un po' meno tempo ho altre cose da fare i video reali mi impegnano abbastanza e quelli di farming anche perché io sono uno che predilige fare poche cose ma fate bene che tante fate col culo più non concedetemi il termine e basta ecco quindi io vado un po' a periodi periodi un po' più full un po' più tranquillo dove pubblico meno video ma non sì questi sono i motivi e basta ultima domanda questa persona non attualmente non mi ha ancora dato un senso per dire il nome ma magari capirà della domanda porterà la nuova mappa alle risarie del nord no non la conosco come mappa e ormai come ben penso si veda per quanto riguarda la presentazione delle mappe sono un po' assente anche perché appunto sì sono cose che richiedono tempo richiedono test e tutto quanto e quindi vi ripeto io cerco di fare il possibile cerco di essere presente almeno con le cose mie principali quindi le presentazioni delle mod e la carriera e per il resto grazie portate pazienza ma quello che ha fatto il miracolo l'hanno messo in croce è buono no taci sua e basta questa era l'ultima domanda spero vivamente di essere stato esaustivo ragazzi nelle risposte come ben vedete sì sono stato un po' sbrigativo perdonatemi ma come avete visto le domande sono state anche abbastanza ho risposto a tutti e ho voluto lasciare spazio a tutti quanti e diciamo accorciare un po' le cose cioè avrei potuto l'immortacci sua ma porco due ma che cacchio di sì era per non ragazzi scegliere due domande parlare di due argomenti e tirarla avanti un'ora parlando di due cose quindi ho voluto strizzare un po' le risposte però dare un po' di risposte a domande un po' più varie ecco questo era il discorso per le prossime volte come vi ho detto all'inizio farò la stessa prassi su instagram quindi per chi non mi seguisse ovviamente nel link in descrizione avete tutti i link dei miei social e può seguirmi e poi farò anche nella community di youtube vi ripeto vi ripeto per favore date dite già il consenso se volete essere citati o meno sia su instagram che a maggior ragione sulla community di youtube che così snelliamo un po' il tutto eccetera io adesso ovviamente come vi ho detto all'inizio la cadenza dei video è mensile barra bimestrale quindi adesso sto registrando che cacchio giorno è oggi siamo 16 febbraio 15 non mi ricordo più e quindi il prossimo arriverà a marzo è una cosa che faccio mensilmente e via quindi posso anche permettermi di fare un po' di domande così di tirarla un po' più lunga sull'episodio e spero che vi passi cioè so che vi passo lo stesso guardando la carriera anche prima non facendo questa cosa qui però spero che questa iniziativa possa essere di vostro gradimento e creare un po' più di curiosità nel ascoltare l'episodio eccetera capite questo era il discorso mi dispiace di dover ricorrere a questo modo un po' così appunto arcano però io ragazzi le live non riesco a farle per motivi di connessione quindi questo è l'unico modo e basta e basta quindi qua stiamo andando avanti col cippato stavo pensando dai allora facciamo così la tiriamo un po' lunghetta finiamo sto carico qua de cippato e poi vado a svuotare il mulino anzi aspetta che vado a vederlo più che altro aspetta un attimo che guardo quanta roba c'è eh si lo scarico è pieno quindi dobbiamo svuotare prima di 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 perfetto ok adesso devo unire sotto qua col daemmler via vorrei cacciarne a retro ma non ho voglia di di imprecare quindi non guardate le mie manovre qua ragazzi con i pioppi perché sono da galera ok bene sono posso do un'occhiata anche al daemmler che non sia da riparare un po' eh si eh si ne è da riparare a meno che ci diamo una riparata perfetto si adesso che non ho finito le domande e ho anche ancora un po' di tempo ragazzi a stare con voi si volevo dire che comunque mi voglio focalizzare nato sulla domanda del che mi avevate fatto in parecchi per quanto riguarda il mio canale e tutto quanto sì io sono qui ad oggi appunto perché quello che mi spinge a fare quello che faccio che sia farming che sia nei video reali eccetera è una passione che ho dentro io ho creato tutto questo ambaradan tutto questo non sapendo cioè essendo cioè all'inizio ero veramente veramente un ognorri in tutto avevo la passione ma non avevo altro non avevo tra virgolette strumenti per condividerla strumenti per alimentarla per farla diventare inconsciamente sottolineo inconsciamente un lavoro perché io quando mi hanno detto guarda che puoi guadagnare da youtube io non ci credevo ero cioè mi hanno detto ma come si fa poi ovviamente mi è stato spiegato tutto quanto e ho guardato avanti sono stato lungimirante ho visto appunto delle possibilità dell'opportunità ne ho approfittato ho avuto il tempo per farlo sono arrivato qui dove sono sono contento dei risultati che ho avuto non sono stato accecato dalla dalla fama dalla voglia di numeri eccetera io sono sempre per chi mi conosce può confermarlo sono sempre sono sempre uguale io non è che adesso che sono un canale da 260 mila e passa iscritti 100 milioni di views eccetera sono sono diventato un galletto uno uno sbruffone un arrogante ma assolutamente no so che alcuni possono possono un attimo che mi segno il secondo rimorchio allora 41 mila ecco qua un attimo che licenzo l'helper che così poi la la trincia si alcuni so che potrebbero pensare male di me potrebbero pensare a questi brutti aggettivi che ho appena detto ma ragazzi credetemi no non sono proprio così forse magari qualcuno lo dice per invidia per stizza per ripicca perché c'è la su con me perché non so quale motivo però credetemi guardate che io sono una persona molto umile una persona molto semplice penso di essere molto educato molto dritto molto composto e niente sì tutto questo e l'ho portato avanti con la mia passione con la mia dedizione con il mio tempo con i miei sacrifici perché mi è costato dei sacrifici e mi costa dei sacrifici questo lavoro qui perché la gente voi cliccate e vi mettete lì guardate il video ma ragazzi dietro io impegno tanto tempo tante energie sia fisiche che mentali per tenere su tutto quanto ne vale la pena perché comunque ho il mio ritorno sono soddisfatto è un lavoro che io non ho dipendenti non dipendo cioè non sono dipendente scusate non ho datori lavoro non ho orari mi gestisco tutto io sono da solo sono tranquillo cioè ci sono tanti aspetti positivi poi ce ne sono altri di negativi ovviamente come tutte le cose però mi piace quello che faccio mi piace mi appassiona mi stimola mi spinge sempre andare avanti per me è veramente tanta cosa perché poi è vario anche perché appunto ho Farmi Simulator dove è nato tutto quanto ho la questione reale dove giro guardo nuove realtà vedo nuovi lavori conosco gente vedo cioè è una cosa che a me piace mi stimola veramente tanto e mi sprona ad andare avanti poi appunto vedo che la cosa funziona i numeri i numeri ci sono la gente guarda piace mi segue quindi lo farei comunque in ogni caso perché non è che sono qua per dire se non faccio views in un video non lo faccio più mi metto a piangere ma non esiste mai ma mai nella vita nel senso io faccio faccio tutto quanto incondizionatamente con passione e tutto guarda che bello non va neanche attorno alla colonna e quindi niente questo è quanto io spero che questa cosa possa trasparire nei video attraverso i video attraverso chi mi ascolta solo così e magari non mi conosce di persona però spero si capiscano un po' di cose di me ecco attraverso il mio fare il mio operare poi ragazzi è dal 2012 che vado avanti nel senso voglio dire se non mi piacesse se non avessi nessun ritorno nessuna soddisfazione non sarei qui a quest'ora siamo nel 2021 sono nove anni non nove mesi e quindi è così bene io svuoto ragazzi qua il Daimler sulla trincea del bastone scarico il Durante avete visto che avrei dovuto fare un sacco di cose nell'episodio ma ne ho fatte un quarto ok poi lo andiamo a riempire di nuovo scarichiamo il Daimler anzi beh no possiamo lasciarlo qua perché tanto quanto abbiamo 73 si dai scarichiamo tanto alla fine anche se non è full non importa ok allora mettiamoci qua scarichiamo direttamente si questo è il modo più veloce e celere da fare col bastone ok come velocità mettiamoci a 4 5 via assegniamo a 6 potranno andare che è un po' più veloci vabbè poi aumentiamo un po' e basta eccoci qua questo è quanto poi lì ovviamente è compatto con calma adesso voglio terminare tutto il silo del 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 mais che tanto ci sta perché abbiamo una resa del del 120% mi pare del pastone rispetto alla quota che buttiamo dentro abbiamo un 20% in più mi pare si e comunque si la trincea qui di roba ce ne sta attualmente ne abbiamo 45.000 quindi buonanotte vedete è la stessa dimensione di questa che aveva 300 380.000 quindi ci sta perfetto ragazzi io a questo punto termino qui l'episodio spero vivamente vi sia piaciuto mi scuso se mi sono dilungato fatemi sapere se l'idea qui delle domande eccetera vi garba se vi è piaciuta se insomma è stata una buona idea se 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 apprezzate e basta ripeto che farò la stessa cosa la prossima volta lo farò sia su instagram quindi seguitemi perché non mi seguisse ancora per chi non ha instagram lo farò nella community di youtube ripeto fatemi scrivetevi mettetevi un appunto di tenere a mente di dare già il consenso per citare il nome il vostro nome insomma io dirò appunto come ho fatto questa volta tizio caio ha detto ha chiesto è buono ragazzi miei io vi saluto fatemi sapere la vostra su alcune cose che ho detto eccetera se avete magari una domandina rispetto a quello che ho un argomento che ho parlato eccetera una deluciazione fatela nel senso vi risponderò nel commento subito così direttamente nel video poi se avete una domanda più specifica fatela fatela appunto per il prossimo episodio spero di essere stato esaustivo in tutte le risposte io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi saluto e ci vediamo prestissimo al prossimo video ciao ciao